Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati, io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro posso essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i pesci, tendenze energetiche e affettive per la seconda parte di marzo 2023. E abbiamo la luna, amici dei pesci, e siamo nel vostro territorio. La luna è sempre una carta che parla di nostalgia, sentimenti di malinconia, molte volte fa riferimento anche alle paure e alle emozioni represse del passato che ritornano in qualche modo a galla. E' una carta comunque che ci parla di quello che è la zona d'ombra della polarità femminile. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo come sempre che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo ed è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se proprio non riusciste a far combaciare niente con la vostra realtà, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi. Trovate il link al video corso gratuito di Tarocchi e trovate la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Ragazzi partiamo dalla forza, un 5 di pentacoli, un 3 di spade, il mago, un asso di pentacoli, ruota della fortuna al contrario e 9 di coppe. Allora qui ho come la sensazione che ci sia stata la necessità di fare una scelta perché la carta della forza è una carta che mi parla di coraggio e di qualcuno che usa la forza di volontà per andare avanti nella vita. Il 5 di pentacoli è una carta che mi parla di carenza, quindi fate attenzione al lato economico, ma essendo una lettura affettiva ho come la sensazione che potrebbe essere una dipendenza in qualche relazione. O c'è una dipendenza economica vostra o da parte di qualcun altro nei vostri confronti per quello che riguarda appunto l'economia, diciamo, oppure è un qualche cosa di economico proprio. E poi c'è anche un 3 di spade, quindi c'è qualche cosa che vi fa soffrire inerente questa situazione. E avendo il mago qui al centro lettura è come se la forza di volontà magari c'è, ma quello che manca è l'azione. Quello che manca è il pensiero focalizzato più che l'azione, perché l'azione io ce l'ho in realtà con la forza di volontà, ma siccome il mago è collegato con tutto quello che è la legge di attrazione e la legge di attrazione lavora con le vibrazioni che noi emaniamo e se sono vibrazioni di paura quelle poi tornano, sento che comunque ad un certo punto c'è questo asso di pentacoli, qualche tipo di occasione. E direi anche per destino, perché qui abbiamo la ruota della fortuna, anche se è girata al contrario, però è come se già solo il fatto di iniziare a fare qualcosa o di intravedere questo tipo di nuovo percorso iniziasse a muovere l'ingranaggio lento della ruota della fortuna e si arriva comunque ad un 9 di coppe, a quello che è il sogno compiuto, anche la luna fa riferimento ai sogni. Quindi si tratta forse di uscire più da uno stato o fisico o mentale, perché comunque il 5 di pentacoli è una carta di carenza ragazzi, è una carta di carenza sia da un punto di vista di come si pensa, nel senso che è un po' tipico di chi dice non ho niente, succedono sempre a me, ce l'hanno tutti con me, è come non vedere l'opportunità, è come essere sempre vittime di quelle situazioni. E fondamentalmente ci sarebbe la voglia, ma non c'è come un ordine di pensiero, un giusto modo. Provate a leggere qualche cosa sul mindfulness, quello vi potrebbe aiutare. Andiamo a vedere carta per carta. Allora, la forza è spiegata. Da una regina di spade al contrario, il sole al contrario, un 9 di spade al contrario. Qui ragazzi qualcuno ha bisogno di staccarsi da una situazione familiare. E vi dico, essendoci la regina di spade, che potrebbe essere una questione legata a una madre. Perché anche il sole è comunque una carta legata ai figli, il 9 di spade è qualcuno che ha appena iniziato a intravedere la luce in fondo al tunnel, questi siete voi. Come se iniziaste a capire che probabilmente quella non è la via giusta, anche se poi in realtà il vostro, diciamo, modo di essere è quello di 5 di spade. Però è un po' come se vi stesse iniziando a spingere l'orgoglio, a dire no, basta. Andiamo a vedere 5 di pentacoli. Abbiamo il papa, che è un 5. E un 5 di spade. 5, 5, 5. Come è la sensazione? Allora, se questa regina di spade non è una madre, può anche essere semplicemente una, mi verrebbe da dire guida, perché vedendo il papa, il papa fa riferimento alle guide spirituali, però più che una guida spirituale, la regina di spade parla di mente, quindi la vedrei di più forse come una psicologa o qualcosa per lo stile. Comunque è una persona molto mentale, diciamo così, senza definire il lavoro o la professione. L'energia della regina di spade è un'energia molto mentale e quando è a testa in giù, ragazzi, parla di manipolazione. È una persona che per ottenere quello che vuole manipola. È una persona che non fa esprimere la vostra essenza. Tenete presente che sia il sole che la carta della forza sono due arcani che corrispondono al segno zodiacale del leone. Questo sì anche al pianeta sole, però il pianeta sole è il reggente del segno leone. Quindi è come non riuscire a ruggire, mi viene da dire. E qui in effetti c'è anche un ciclo di spade, un cinque di pentacoli e anche questi parlano di dipendenza emotiva, dipendenza effettiva, confusione mentale, manipolazione mentale. E potrebbe essere che vi hanno proprio indottrinato perché c'è un papà. E ho come la sensazione che qualcuno vi abbia semplicemente... Non perché questa persona volesse intenzionalmente manipolarvi, ma perché probabilmente è quello che ha imparato ed è come ve l'ha trasmesso, è quello che vi ha trasmesso. Però ho come la sensazione che sia molto legato alla religione. Quindi certe paure, certi doveri, certe proiezioni potrebbero essere legate a quello che è il mondo della religione o al mondo della spiritualità. Vi faccio un esempio. Perché qui potrei proprio parlare di credenze limitanti tipo che per avvicinarsi a Dio bisogna soffrire, tipo che la vita è sofferenza, tipo che per essere riconosciuti bisogna soffrire, per essere, come che dicono, chi bello vuole apparire un po' di male deve soffrire, tutte queste cose che veramente... Perché? Perché ci insegniamo? Perché ci programmiamo a dover soffrire? Non è così. Non è quello che ci hanno voluto insegnare. Però comunque scrivetemi nei commenti perché è abbastanza particolare questo tipo di lettura. Andiamo a vedere il tra di spalle. Cavaliere di coppe E due di bastoni Allora, diciamo per una lettura un po' più terrena Il Papa può anche rappresentare molte volte una persona sposata o comunque un matrimonio in ballo E qui potrebbe esserci una carenza da quel punto di vista del matrimonio inteso come un qualche cosa di riconosciuto Un qualche cosa di ufficiale, appunto Però qui ho come la sensazione che questo accordo non arrivi, ci si battibecchi un po' Andiamo a vedere il mago Un altro mago, mi sembra giusto La carta della forza nuovamente è un 4 di spade Sì, ripeto, questa è la carta che vi dice di curare quello che è l'aspetto psico-emotivo La psiche, la mente e tutte quelle che sono le emozioni, le ombre, le paure Tutto quello che sono le emozioni represse e non elaborate Qui avete bisogno di tirarle fuori, di mettere le carte in tavola con questa forza Semplicemente di tirare fuori il coraggio di dire Ok, elaboro quello che non mi fa star bene Elaboro come non sto manifestando quello che voglio io Tenete presente che quando il mago è il contrario Anche lui può parlare di manipolazione Quindi avete la regina di spade, avete il 5 di pentacoli Questa vostra sensazione di vittimismo Insomma, diciamo che la prima parte della lettura la vedo un po' con la vibrazione bassina Ma perché qualcun altro vi intasa a livello mentale E' come se non riusciste a uscire da questi pensieri, da questa situazione Però, di qua, andiamo a vedere l'asso di denari perché le cose cambiano La torre, ecco, infatti Guardate, rido perché L'asso di denari qua è uscito a testa in giù E mentre qui l'asso di denari è a testa in su Ma c'è anche la torre, quindi che cosa vuol dire? La torre è la caduta delle certezze che si sono avute fino a questo momento Se vi hanno insegnato, ipotesi, per tornare all'esempio di prima Che la vita è sofferenza Adesso inizierete a mettervi in discussione, in dubbio questa credenza E dirvi perché la vita è sofferenza Perché la vita non può essere amore Perché non può essere bella Perché io non posso riprogrammare il mio cervello Che è quello che si fa con le credenze limitanti E autoprogrammarmi in modo da proiettare verso l'universo La mia consapevolezza sul fatto che la vita è bella In modo che l'universo senta questa vibrazione E mi rimandi cose che facciano diventare ancora più bella la mia vita E' un po' come se vi dicessero Bisogna interrompere quello che non funziona Scusate E poi abbiamo La carta della ruota della fortuna Andiamo a vedere Allora Eremita e 5 di bastoni Qui c'era un 5 di spade Qui c'è un 5 di pentacoli E anche il pap è un 5 Quello che deve cambiare è la vostra attitudine competitiva Nei confronti di chi vi sta intorno Anche nei confronti di questa persona Cioè alla fine Credo che il consiglio qui sia Isolatevi Non entrate dentro i conflitti Rompete lo schema Cioè se prima eravate diciamo così indottrinati O C'è qualche tipo di dinamica che continua a ripetersi Magari proprio con questa regina di spade E si resta sempre in questo 2 di bastoni Dove non ci si decide mai a prendere una decisione chiara Che è un po' quello che chiede la forza Come se nella seconda fase Rimettendo in discussione Tutto quello che la torre Tutte le sicurezze Diciamo che avete avuto fino ad adesso Iniziasse A rompere appunto Il ciclo del karma Cioè cosa vuol dire Iniziate ad uscire Come appunto vi ho accennato prima Dalle competizioni Dai pettegolezzi Dalle lotte Egoiche Cioè Sono quelle discussioni dove Eh no ma tu Tu hai fatto di più Eh no ma Tu però anche lì Quella volta lì Mi hai fatto Quindi è tutto un Risputarsi addosso Cose vecchie Che non servono Senza trovare una reale Soluzione al problema Qui è un po' come se vi dicessero Fatevi scivolare addosso le cose Rompete la ruota Non vi fate più assorbire Da queste cose E vedrete che sarete meglio Perché? Perché avete rotto le strutture All'interno di questa relazione O situazione Otto di spade E asso di bastoni E come un voler uscire Da questo Pensiero stagnante Con l'asso di Di bastoni Sì ragazzi Guardate avete un asso qui La ruota della fortuna Un asso Un asso C'è qualche cosa che cambia Verso l'inizio della primavera Nel vostro modo di Reagire nei confronti degli altri Nel vostro modo di Mi verrebbe da dire Anche gestire le paure Ed è come acquisire Una nuova sicurezza In voi stessi Guardate Se questa persona Fosse la vostra Metà Vostro marito Moglie Compagno Perché comunque abbiamo il papa Con Il o la quale Non c'è più Un'armonia di relazione O come la sensazione Che qui ci sarà uno switch Qui Interromperete lo schema Di reazione Può anche essere Ragazzi Che qualcuno Decida di ritornare single E nonostante Non si veda bene Come Poter affrontare Il futuro Tenete presente Che con la luna C'è una sorta di Vista Parziale Della realtà Io credo che Prenderete la Semplicemente andrete Per raggiungere Il vostro sogno Il vostro obiettivo Qualunque esso sia Sia staccarvi Da questa persona E procedere Per conto vostro Che sia Il creare Un qualche cosa Magari di ufficiale Con questa persona Se è un partner Romantico Però c'è Nove di coppia Alla fine Ok Andiamo a vedere Ancora Un Un angelo Del cuore Vediamo cosa Vi dice Fiducia Questa situazione Richiede Che tu abbia Fiducia Ve la metto Qui Tra La torre E la ruota Della fortuna Perché la torre Normalmente Sono anche Eventi esterni Alle volte Che ci manda L'universo E che comunque Sono lì Per il nostro Più alto bene E quel momento Di reset Che diversamente Noi non saremmo Stati in grado Di fare E che ci permettono Appunto Di destrutturare Le sicurezze Che avevamo Nel passato Per ricostruirci Nuovi Per piantare Un nuovo Seme Ok E poi La ruota La fortuna Perché in qualche Modo Indica Il fatto Che siete Un po' Guidati Dal destino Dal karma Andiamo a vedere Ancora un con Fa quello che vuoi Ah E non perché Devi L'indottrinamento Quello che vi Dicevo prima Questa carta È un po' Guardate Se non è Un indottrinamento Religioso Io molte volte Lo sento Il Papa Anche come Legato a tutto Quello che è L'educazione Sapete Quando ci si sente Obbligati a fare Delle cose Per educazione O almeno Questo è quello Che ci insegnano E questa carta Un po' Ricorda Il fatto Che È bello Fare Quello Che stiamo Facendo Quello che vogliamo Dare Diciamo Perché abbiamo Piacere di farlo O di darlo E non perché Ci sentiamo In obbligo In obbligazione È anche interessante Mentre analizzate Che cosa Dovete Destrutturare Che cosa Vi sentite Di fare Per obbligo Rendervi conto Di quante Sono le cose Che vi sentite Obbligati a fare Perché finché Uno non ci pensa Non si rende conto Spero che la lettura Sia stata L'ispirazione Amici dei pesci Io Vi ringrazio Di essere stati Qui con me Se la lettura Vi è piaciuta Comunque potete Mettere like Potete iscrivermi Fatemi sapere Poi nei commenti Come vi risuona Io vi auguro Tante belle cose Vi mando un abbraccio E ci vediamo Nei prossimi video Ciao ciao